Domande, passato, due. Which tie did you wear? Che cravatta hai indossato? Which car did you buy? Che macchina hai comprato? Which newspaper did you subscribe to? A che giornale ti sei abbonato? Who did you see? Chi ha visto? Who did you meet? Chi ha incontrato? Chi ha riconosciuto? When did you get up? Quando si è alzato? Quando si è alzato? When did you start? Quando ha cominciato? Quando ha cominciato? When did you finish? Quando ha finito? Quando ha finito? Why did you wake up? Perché si è svegliato? Perché si è svegliato? Why did you become a teacher? Perché è diventato insegnante? Perché è diventato insegnante? Why did you take a taxi? Perché ha preso un tassi? Perché ha preso un tassi? Where did you come from? Da dov'è venuto? Da dov'è venuto? Where did you go? Dov'è andato? Dov'è andato? Where were you? Dov'è stato? Dov'è stato? Who did you help? Chi hai aiutato? Who did you write to? A chi hai scritto? A chi hai scritto? Who did you reply to? Dov'è andato? Dov'è andato? Dov'è andato? Dov'è andato? Dov'è andato? Grazie.